Buon pomeriggio da Infostudio, lunedì 3 settembre, ben ritrovati, inizia una nuova settimana e cominciamo con la cronaca, in condizioni stabili ma sempre in prognosi riservata, in ricoverato nell'ospedale di Catanzaro, il carabiniere che è stato colpito con un pugno al volto nel corso di un parapiglia seguito al controllo di un'auto a bordo della quale è poi stata trovata della droga. I carabinieri avevano fermato un'auto condotta da Adriano Lerri Rizzo di 27 anni, assoverato, sono accaduti i fatti, fra l'altro il 27enne era già noto alle forze dell'ordine, subito dopo sul posto è giunta un altro auto con a bordo la madre di Rizzo con certa battaglia di 50 anni ed il fratello Giulio Moreno di 26 anni e sarebbe stato quest'ultimo a scagliarsi contro i carabinieri e poi a prendere dalla vettura del fratello un sacco con dentro circa mezzo chilo di marijuana di cui si è disfatto prima di fuggire, del resto comunque la marijuana è stata ritrovata in una scarpata con l'aiuto dei vigili del fuoco in auto e anche è stato trovato un tirapugni. Adriano Rizzo e la madre sono stati arrestati per violenza e resistenza pubblico ufficiale e detenzione di droga. Il fratello che è riuscito a scappare adesso è ricercato. I sindaci della Locride hanno chiesto l'intervento del ministro delle infrastrutture per la vicenda del ponte sul fiume Allaro da venerdì, lo ricordiamo l'ANAS ha stabilito che è vietato il transito dei mezzi di oltre 7 tonnellate e mezzo di peso e questo per un abbassamento dei piloni, il traffico è fissato ad una soglia massima, velocità massima di 30 km all'ora e i sindaci chiedono anche che si determini impartendo indirizzi operativi urgenti e indifferibili anche attraverso la realizzazione di un ponte provvisorio restituendo alle popolazioni della Locride nell'arco di poche settimane il diritto ad una mobilità nel territorio e il pieno accesso ai servizi essenziali che attualmente fanno presente i sindaci sono compromessi, in modo particolare il raggiungimento di ospedali, scuole e eventualmente per spostamenti di emergenza si è in notevole difficoltà. Il ponte era franato in parte per un'alluvione che ha colpito la zona, vi ricordo che il primo cedimento si verificò la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre del 2015, da allora sull'Allaro si procedeva a senso unico alternato, ora con lo stop ai mezzi pesanti per i sindaci di Caolonia Caterina Belcastro, per il presidente del comitato dei sindaci della Locride Rosario Rocca e per il presidente dell'assemblea dei sindaci della Locride, sempre Franco Cambia, l'ordinanza dell'ANAS pregiudica ulteriormente le già precarie condizioni di vita della popolazione dell'intera Locride. Le nuove disposizioni, sostengono i rappresentanti dei cittadini, non consentono l'attraversamento del ponte alle tipologie di mezzi che assolvono al trasporto pubblico e commerciale e l'imminente apertura dell'anno scolastico d'esta preoccupazione in virtù della mancanza di un sistema viario alternativo, peraltro ipotizzabile in un itinerario altrettanto insufficiente e insicuro al momento attuale. I sindaci in ogni sede e tempo hanno sostenuto con forza che l'aspetto preeminente fosse quello di garantire la transitabilità e insicurezza nell'attesa della ricostruzione del ponte. Tuttavia la mancata previsione di percorsi alternativi più agevoli e immediati di quello originariamente utilizzato nel 2015 paralizza improvvisamente il comprensorio. Infine viene fatto notare come malgrado le frequenti sollecitazioni l'ANAS non abbia in precedenza messo in discussione la sicurezza e la tenuta della strada che viene attualmente usata. Da pochi giorni i vigili del fuoco della Calabria hanno un nuovo comandante, proviene dal comando provinciale di Roma e l'ingegner Marco Ghimenti arriva in un momento particolarmente difficile tra la tragedia del Reganello da una parte e la crisi determinata anche, la crisi ovviamente nel senso di emergenza e di interventi, quindi lavorativa determinata dal maltempo delle ultime due settimane. L'ingegnere Marco Ghimenti, romano, quasi 30 anni di servizio e da pochi giorni il nuovo comandante dei vigili del fuoco della Calabria. Ghimenti ha preso il posto di Renato Scardia destinato al comando regionale della Puglia a termine della cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne presso la sede regionale di Catanzaro, presenti fra gli altri i comandanti provinciali del corpo. Ex dirigente del soccorso aereo della direzione centrale dell'emergenza, funzionario dei servizi portuale ed aeroportuale, ericotterista, comandante provinciale prima ad Ascoli Piceno e poi a Roma, dove era stato nominato nel 2014 e da dove proviene, Ghimenti sarà anche il reggente del comando provinciale di Reggio Calabria. Il nuovo comandante si è insediato in un momento particolarmente delicato, una decina di giorni dopo la tragedia delle gole del Raganello. Non a caso nel suo discorso di insediamento ha parlato di pianificazione a lungo termine, prevenzione, conoscenza approfondita, ricerca e studio del territorio come elementi basilari del lavoro, uniti alla necessità di fare squadre. Concetto quest'ultimo sul quale Ghimenti ha più volte insistito, ponendo l'accento anche sull'immagine del corpo. Quella percepita da tutti ha spiegato è legata all'emergenza e dall'immediatezza degli interventi, alla costante presenza in prima linea e nei fatti di cronaca, dalle calamità naturali ai disastri come quello di Genova del 14 agosto. Ma l'aspetto che si coglie di meno, ha rivendicato il nuovo comandante, è quello della progettualità, del lavoro di ricerca ed analisi, della programmazione che sta dietro ad ogni intervento di urgenza. Ecco dunque che il lavoro deve partire dalle caratteristiche del territorio, sia ambientali che legate agli insediamenti antropici, che è la base della prevenzione, perché ogni incidente, sostiene Ghimenti, è la punta di un iceberg che già scricchiolava, mandava segnali. Ecco dunque che la conoscenza dei luoghi è fondamentale sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria e per evitare di restare indietro negli aspetti importanti. Ghimenti ha ammesso le carenze degli organici, che del resto sono pressoché uniformi su tutto il territorio nazionale, ma ha chiesto a tutti i suoi uomini di essere protagonisti, perché la Calabria presenta asperità che rendono particolarmente difficile il lavoro. La priorità è capire le esigenze prioritarie, conoscere il territorio con molta umiltà e rispetto di quello che già è stato fatto e di quella che è la realtà, cercando di dare un contributo. Io sono dell'idea che siamo in tempi di grandi velocità, però nello stesso tempo siamo in un periodo in cui bisogna partire dalle situazioni che uno ha, capirle e poi fare dei piccoli passi, l'importante è che siano passi in avanti, perché il rischio a volte è che magari si faccia un passo avanti, uno a destra, uno a sinistra. Piccoli passi ma in avanti e aderenti a quelle che sono le esigenze e al rispetto sia del territorio che delle persone che lavorano, corpo nazionale in primis perché è quella la mia responsabilità, ma poi chiaramente di tutto il territorio e di tutta la popolazione. Insieme ai colleghi qui della direzione e dei comandi, ai comandanti e a tutto il personale della Calabria, diciamo chiaramente andremo a vedere le situazioni più particolari, provincia per provincia e situazione per situazione. Non ce l'ha fatta il sindaco di Bivongi, Felice Valenti, è morto ieri nel policlinico di Catanzaro, all'età di 59 anni era ricoverato appunto a Catanzaro. Valenti è stato più volte sindaco del comune del Regino ed anche consigliere della provincia di Reggio Calabria. Accordoglio per la sua morte sono state espresse a molti esponenti del Partito Democratico, in modo particolare dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falco Matà. Un uomo del quale non sono state rese note le generalità è morto ieri investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Longobardi sulla linea tirrenica fra Amantea e San Lucido. A causa dell'incidente il traffico ferroviario è rimasto sospeso per un'ora, poi è ripreso su un unico binario, poi completamente in serata. Accanto all'uomo è stata trovata una motosega, ci ho lasciato supporre che stesse lavorando nei pressi dei binari e che anche per il rumore dello strumento che usava non si sia accorto dell'arrivo del treno e comunque sulla vicenda c'è un'indagine della polizia ferroviaria. Siamo al calcio in attesa delle decisioni che domani arriveranno, circa il pasticcio, diciamo così, chiamiamolo così, non si può definirlo in maniera diversa di Cosenza Verona, col Cosenza che ha già sporto reclamo al momento del sopralluogo che ha preceduto poi il diniego dell'arbitro. Domani, ripeto, arriveranno le decisioni del giudice sportivo. Il Crotone conquista la sua prima vittoria in campionato, alla prima gara casalinga, batte il Foggia per 4 a 1 e in parte cancella la sconfitta contro il Cittadella. Al di là del punteggio non tutto è andato liscio, ma si vedono segnali, uno della bontà dell'impianto che peraltro era riconosciuta, due, e forse di questo sarà ancora più contento il diretto interessato, dei dettami tattici dei desiderata di Giovanni Stroppa. Il Crotone schianta il Foggia, cancella la brutta figura dell'esordio contro il Cittadella, incasella i primi tre punti in classifica ed arriva alla sosta senza assilli. Era quello che Stroppa chiedeva nel giorno in cui si confrontava col suo recentissimo passato. Il debutto all'uscida per il tecnico lodigiano è importante soprattutto perché la squadra comincia ad assimilare i suoi schemi a metterli in pratica, dal fraseggio alla ricerca immediata della verticalità, dalla compattezza tra le linee in fase di non possesso alle sovrapposizioni degli esterni bassi. C'è subito da dire che il 4 a 1 finale è bugiardo, come lo era il 3 a 0 subito a Padova la settimana scorsa. Nel primo tempo, dopo una buona partenza, il Crotone è apparso più impacciato e prevedibile, con solo Nalini in grado di inventare qualcosa di originale e un grande spavento per una mezza follia di Kordaz che, servendo il pressatissimo Benari, per poco non regala ai pugliesi il jolly. Ma a parte una punizione di Firenze e un colpo di testa di Budimir che alza la mira da buona posizione, di tiri in porta se ne vedono pochissimi. Il gol che sblocca la partita alla mezz'ora tuttavia arreca il marchio di fabbrica della ditta. Rodie n'apre a sinistra per martella, il Foggia è compatto ma nessuno segue Faraoni, pescato col traversone larghissimo sul secondo palo e molto bravo a tenere bassa la conclusione tra Piatone e Malleolo che buca Bizzarri. Il vantaggio si traduce in maggiore tranquillità e confidenza, tanto che in apertura di ripresa, in appena 5 minuti, i rosso-blu chiudono i conti. Al quarto Budimir evita il pressing mettendo ordine e servendo centralmente Firenze, sulla cui percussione la difesa foggiana scappa troppo all'indietro, offrendogli lo spazio per il destro d'interno e da giro, bellissimo, sulla sinistra di Bizzarri. Due gol molto belli che però arrossiscono di fronte a quello di Andrea Nalini, che al nono approfitta di una respinta corta di Martinelli e da 30 metri scavalca Bizzarri con un pallonetto geniale, rara combinazione tra etica ed estetica, efficacia e cifra stilistica. Per l'attaccante veronese il ritorno al gol dopo la doppietta alla Lazio nella sera della festa salvezza di 15 mesi fa ed è anche il primo centro in assoluto in Serie B. Dopo altri 9 minuti al ventesimo c'è gloria anche per Rodien al termine di una delle più belle combinazioni della partita. Lo svedese parte ai 30 metri, vede lo scatto di Nalini a destra e si butta dentro. Il veronese lo serve a occhi chiusi, girandosi senza guardare. Il controllo è imperfetto ma compensato dal destro in diagonale in allungamento. Crotone a quel punto sazio e comprensibilmente rilassato. Negli ultimi minuti il Foggia ci prova diverse volte ma Cordaz capitola solo al novantatresimo sul rigore trasformato da Mazzeo per fallo di Faraoni su Gori. Una piccola macchia che infastidisce Stroppa, la spia del cantiere aperto e dei lavori in corso, che però andranno avanti con più fiducia. alla ripresa dopo la sosta Crotone atteso dalla trasferta di Livorno e giocherà di lunedì sera, sarà il posticipo. Al termine della gara Stroppa molto serio, serioso, più che altro per anche il confronto, per la prima volta direttamente con la piazza foggiana. Ci sono le telecamere, ha detto ne approfitto anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. C'è chi lo ha fatto passare per traditore in fuga e questo lo ha alquanto rabbuiato, lo ha alquanto rattristato e ha reagito Stroppa e poi si è soffermato sulla partita, soddisfatto ma continua a dire bisogna lavorare, c'è ancora tanto da fare prima di arrivare a quello che pretenderei dalla mia squadra. Il risultato non ci deve far cullare sugli allori, gli ultimi 10 minuti non si possono concedere perché mi sembra che Foggia abbia tirato negli ultimi 10 minuti e non si può allentare. Mi rode aver preso il gol così e quando regali le situazioni non mi sta bene. Al di là di questo abbiamo battuto una squadra fortissima e quindi faccio i complimenti alla squadra e poi dei gol straordinari e quindi quando funziona la testa, funziona la determinazione, l'attenzione escono le qualità dei singoli e quindi faccio i complimenti a chi ha fatto gol e a chi ha fatto quelle giocate. Siamo sulla strada giusta. Mi piace questo risultato perché ci deve dare la consapevolezza nel fare le cose, siamo ancora lontani per quello che dovremmo andare a fare. Non voglio essere falso o modesto ma credo che c'è tanto da lavorare perché comunque c'è la possibilità di palleggiare meglio, c'è la possibilità di tenere il campo in maniera migliore. L'attenzione deve essere nei 95 minuti e non cullarsi sul risultato acquisito, allora dopo escono i difetti. Mi sembra di non essermi mai nascosto, io alleno una squadra fortissima, c'è soltanto da tirar fuori autostima e consapevolezza. Le partite come quelle di stasera mi auguro che possano dare consapevolezza in quello che si fa, c'è soltanto da tirar fuori le qualità tecniche, però prima di tutto è la personalità, la qualità dei singoli, far sì che questi ragazzi incominciano o ricominciano a fare quello che sanno fare. Il telegiornale si ferma qui per il momento, noi torniamo alle 19.40, vi lascio con Francesca Rettondini e grazie per averci seguito e buona giornata. Rettondini e grazie per averci seguito e buona giornata.